una biografia diversa dalle altre perché a raccontarla è un gatto e non capita tutti i giorni che un gatto consideri il santo padre suo amico e si metta a scrivere la sua storia io vivo ormai da diversi anni accanto al papa benedetto xvi il mio nome è don george proprio come il fratello maggiore del santo padre vi posso assicurare che quanto troverete in questo libro è tutto vero e interessante